Loredana Lecciso contro Romina Power . Lattuale compagna del cantante risponde alle dichiarazioni della Power. La lite tra Loredana Lecciso e Romina Power sembra aver raggiunto l'apice. . Dopo la dichiarazione dell'attrice americana a Verissimo Albano mia ma ancora io amo Albano, si è statenata l'ira del cantante pugliese, che ha smentito un impossibile sentimento nei confronti della ex moglie. . Stando a quanto detto nel salotto di Silvia Toffanin, Romina sembrerebbe convinta che Albano sia ancora innamorato di lei e la questione non è vista di buon occhio né dal cantante né dall'attuale compagna Loredana. . Proprio il cantautore italiano ha voluto quindi precisare che, a suo parere, la frase della ex moglie era solo ironica e che tra i due l'amore è finito da tempo. . Ben più forti, invece, sono state le dichiarazioni di Loredana Lecciso, che ha voluto sottolineare, Romina fattene una ragione, Albano è mio. . La donna ha quindi ribadito che il ritorno di fiamma tra il marito e la sua ex moglie è solo una notizia falsa, come false sono le notizie negative che circolano costantemente attorno alla loro relazione. . . Il rapporto tra Loredana e Albano sembra quindi andare a gonfie vele, tanto che quest'estate erano circolate voci, poi dichiarate false dalla coppia, che sostenevano che i due si erano sposati all'estero, più precisamente in Bielorussia. . . Chissà quanto si dovrà attendere per il vero matrimonio, che il cantante pugliese vorrebbe avvenisse esclusivamente in Italia. .